Dopo il sisma gli uffici della ricostruzione gli impongono di far rimuovere un traliccio della RAI altamente impattante anche dal punto di vista paesaggistico ma nemmeno questa imposizione può essere fatta valere dal sindaco di Fagnano Alto, il comune dell'Aquilano, i cui residenti anche prima del sisma si erano mobilitati per la delocalizzazione della maxi-antenna. Quattro anni fa quando sono entrato nel ruolo di sindaco, essendo il mio comune anche terremotato, la stessa sovrintendenza che sovrintende la ricostruzione mi scrisse imponendomi la rimozione dell'antenna in fase di ricostruzione e quindi supportato anche da questo autorevole parere mi sono attivato e ho chiesto alla RAI di darmi una mano in tal senso. Però nonostante le numerose sollecitazioni, i vari siti individuati e sottoposti all'attenzione dei tecnici della RAI le risposte sono sempre state negative basandosi semplicemente su una perdita di segnale quindi di utenti come servizio pubblico loro non potevano quindi perdere utenti e tutto è andato sempre a tal luce e vino. La questione del traliccio di Fagnano è stata affrontata nel corso di un incontro svoltosi a Pescara sull'inquinamento elettromagnetico promosso dal comitato No 5G Abruzzo. L'attenzione sulla vicenda resta alta da parte dei residenti. Ho fatto anche delle raccorte firme, in passato anche qualche mio predecessore, però le ripeto davanti a questi colossi diventa difficile poi poter agire concretamente. In questo caso specifico avevo anche l'USRC che è l'ente che si occupa della ricostruzione che potrebbe aiutarmi a finanziare la delocalizzazione e la distruzione appunto del sito attuale. La stessa Mediaset si era dimostrata anche favorevole a dare un contributo perché tutto questo avvenisse, però davanti a questo No della RAI attualmente sono abbastanza bloccato. Grazie. 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 Grazie.